Il tele di cinema è naturalmente un'idea grandiosa che ha avuto Vincenzo Mondorelli di cui mi ha parlato ovviamente quando prefigurava di poterlo fare. Quando ci parla di questo festival, fare dei master su pellicola, una cosa eccezionale, che ha dato anche, devo dire, una risonanza al festival molto più grande del normale, perché tutti sono interrogati tramite i mago nel mondo. Com'è che in Sicilia fanno questo festival che c'era su pellicola, una cosa che Europa indigenerà il film. Per gli altri probabilmente la pellicola è una cosa da dimenticare. Ora per noi la pellicola è una cosa non solo da dimenticare, da continuare a usare nel caso che uno voglia usarla, dare questa possibilità. I tempi evolvono, è normale che le tecnologie evolvano, è normale che si cerca di sviluppare industrialmente qualsiasi idea per renderla dal punto di vista economico valida, no? E quindi lo sviluppo delle macchine, delle ottiche non è altro che questo. La necessità di creare dei bisogni che non esistono, che è un po' la metafora dei nostri tempi, penso. Grazie a tutti.